Ben trovati, seconda parte della dodicesima puntata di Zebra in Meta, ricordiamo tutti i tifosi che ci seguono su Teleeducato in Emilia e sul canale YouTube delle Zebbre, il prossimo appuntamento ufficiale domani alle 19 allo stadio 25 aprile di Parma, le Zebbre ospiteranno i Gallesi Scarlet per il diciottesimo turno della Rabo d'Arte Pro 12, fischio di inizio dell'arbitro Fitzgibbon, come detto prima alle 19 per cui vi aspettiamo tutti allo stadio, una gara che dovrà dare continuità rispetto alle ultime prove, ultime prove dove sicuramente come ricordavamo nella prima parte della trasmissione la voglia di osare e di giocare palla alla mano è stata sicuramente fondamentale, ricordo la bella meta di Sarto segnata a goalway tre settimane fa per cui Roberto un maggiore possesso per impedire agli avversari di tenere in mano il gioco e sfruttare veramente i nostri tre quarti della linea che è praticamente quasi tutta confermata rispetto all'ultima uscita e da continuità al gioco che vuole Troncon per i bianconeri. Io ti torno, sono ripetitivo, abbiamo bisogno di questa vittoria, i giocatori si devono dare ancora qualcosa di più anche se non si può recriminare niente perché specialmente in queste ultime partite abbiamo fatto tanto bene, come nelle immagini che vedevo prima in sottofondo mentre parlavamo in Irlanda nei primi due minuti abbiamo preso, nei primi dieci minuti abbiamo preso due meta ma poi abbiamo cominciato a imporre il gioco fino alla metà di Sarto, poi siamo passati a due minuti alla fine due ingenità e su una palla che dovevamo solamente buttare nel loro campo, poi invece abbiamo voluto anche lì giocare anche se erano in vantaggio e abbiamo perso la partita all'ultimo minuto. Però tutto parte da un nostro errore come questi ragazzi qua avevano appena finito di dire, a questo livello ogni errore si paga, noi dobbiamo migliorarci nei particolari però questa squadra è cresciuta. La cosa positiva è che come vedi da queste immagini qua in Irlanda c'erano 12 mila persone e metti pure per 40 minuti hanno avuto paura di perdere perché le zebbre hanno imposto un gioco, hanno fatto bene e c'è soddisfazione uscire fra gli applausi del pubblico avversario. Però abbiamo bisogno di questa vittoria e forse più manca e più è difficile nella testa dei ragazzi di sbloccarsi, però ce n'è bisogno per mille motivi. Giazzo anche tu, chiaramente sei andato in campo, quando giochi, giochi in altissimo livello però esci e hai perso, hai tutta una sensazione diversa. Sì, sicuramente abbiamo veramente perso troppe partite per pochi punti quest'anno, mi vengono in mente due partite soprattutto in trasferta, una è quando abbiamo giocato a Glasgow e una è quella che abbiamo giocato lì a Swansea contro gli ospiti, perché tutte e due le partite abbiamo perso di un punto e veramente con degli episodi sfortunati perché mi ricordo c'è la meta che ha fatto Biggar in calcio, messo così in mezzo al campo, gli hai rimbalzato in mano, ha segnato la meta del vantaggio e lì purtroppo a due minuti dalla fine è difficile poi ribaltare il risultato. Anche lì abbiamo fatto tutto il possibile dopo un po' tra le condizioni meteorologiche, un po' di sfortuna veramente per qualche presa al volo sfuggita, anche lì abbiamo preso delle mette stupidissime. E pensare che proprio Glasgow che per due volte ha rischiato di capitolare contro le zebra guida oggi la classifica per volare il protuelvo. Vorrei sottolineare quanto noi siamo vicini a quelle squadre, anche se purtroppo siamo gli ultimi in classifica, abbiamo fatto delle ottime partite contro Alistair, abbiamo perso i due punti in casa, che penso che nessuna squadra del campionato celtico fosse arrivata così vicino, quindi veramente siamo lì lì, ci manca forse delle volte un pizzico di fortuna e forse un pizzico di cattiveria in più. L'aspetto positivo è che quello che di buono non hanno raccolto nel campionato le zebra hanno avuto successo con la nazionale, perché i punti delle ultime partite sono tutti fatti nella partita con l'Irlanda, fatti da giocatori bianconeri. Bianconeri. Chiaramente solamente chi ha giocato o un allenatore sa che quando la partita la si è vinta per un punto, la si è persa da un punto, non si può recriminare niente alla squadra. Su un punto o due cambia il mondo, perché se sei della parte del vincitore tutto quello che hai fatto è d'oro, se sei quello che ha perso per un punto non ti rimane in mano niente. La cosa positiva è che questi ragazzi stanno crescendo e è un futuro, come stiamo vedendo questa meta di Sarto che in accelerazione fulmina due giocatori irlandesi, di cui uno è il nazionale Tongano, insomma vuol dire che stiamo facendo delle cose buone. Però ci basterebbe anche su questa partita vincere noi di un punto e con un calcio all'ultimo minuto, però abbiamo bisogno di vincere per noi e per la gente che ci viene a vedere, anche perché quando giochiamo in trasferta gli stadi sono tutti esauriti. Purtroppo il pubblico di Parma o quello che dovrebbe essere della franchigia, per il freddo, per i nostri risultati, sta rispondendo poco e invece la squadra merita tanto di più. Ricordiamo ai tifosi che mancano cinque partite alla fine della stagione e ben quattro di queste saranno giocate dalle zebbre in casa, per cui come diceva il direttore sportivo Manghi, ci sarà l'occasione anche col bel tempo primaverile di supportare le zebbre. Tre venerdì sera vedranno la formazione bianconera allo stadio 25 aprile, 22 marzo, 29 marzo, 3 maggio, mentre invece un grande evento domenica 21 aprile allo stadio Città del Tricolore di Reggio Emilia vedrà le zebbre ospitare i campioni dell'Henicum Cup di Leinster in una sfida rugby contro il terremoto per le popolazioni colpite. Roberto, tu uscite dalla formazione oggi scelta dallo staff tecnico, per te è un posto in panchino con la maglia 23, raccontaci dunque da vicino all'interno del gruppo come è stata preparata questa sfida, quali le insidie, cosa avete studiato anche grazie al team di videoanalisi per questa partita di domani. Sì, abbiamo preparato la partita al meglio ovviamente, cercando di curare tutti i minimi particolari, guardando anche la squadra avversaria logicamente, è una squadra fisica, è una squadra che vuole giocare, cerca di fare un gran gioco anche con i tre quarti, sono molto duri anche sui punti di incontro, quindi lì sicuramente sarà una grande battaglia, verranno qui per portare sicuramente più punti che possono, essendo quarti a un punto tra i quinti se non sbaglio, quindi sarà una grande battaglia. Noi penso abbiamo fatto tutto il possibile fino a questa mattina per prepararla al meglio e domani dobbiamo metterla in campo. E Roberto, domani mancherà il nostro capitano Marco Bortolami, che era rientrato da poco, buone prestazioni nelle ultime quattro gare, un risentimento muscolare l'ha messo fuori, per cui mentre c'è continuità nei tre quarti, qualche cambio negli avanti. La primavera è anche un momento storico dove si comincia a parlare di mercato, si leggono sui siti, in giro sulla rete, sui giornali rumors, visto che ti abbiamo qua quest'oggi, puoi raccontarci qualcosa del tuo lavoro specifico sulle zerbe del futuro? Io voglio solo dire che quest'anno ogni settimana la formazione si può dire è cambiata, c'è stato sempre un riciclo di giocatori e lo staff ha fatto giocare in ugual misura quasi tutta la rosa e non si è mai visto una differenza fra il giocatore che usciva e quello che entrava. Chiaramente qualcuno ha fatto meglio di altri, però anche il rapporto a quello che hai detto subito all'uscita dell'infortunio di Bortolami che chiaramente nell'ultima partita ha portato con il suo rientro esperienza, però chi lo sostituisce, Van Vuren o Sole, ha sempre giocato partite all'altezza. Per quello che riguarda la prossima stagione sono cose che in questo momento ci toccano poco perché abbiamo l'obiettivo di fare bene con la squadra che abbiamo quest'anno. Chiaramente visto che l'anno scorso la rosa è stata fatta velocemente in un mese e mezzo dove parecchi giocatori avevano già del contratto con altre squadre o qualcuno non credeva in questo progetto Zebbre. Adesso la situazione è cambiata, sono parecchi giocatori che credono in questo futuro, soprattutto la federazione impostando questa squadra di sua proprietà dà delle garanzie futuro. oltretutto siamo una squadra che non so perché all'estero siamo simpatici, se è il nome, l'animale, quello che vuoi o forse perché stiamo giocando bene. L'unica nota dolente, e l'ha detto stampa che sei in te, che adesso sto vedendo, di trovare qualcuno che sia un po' più pimpante, un po' più... per migliorarci un pochettino. No, scherzi a parte, i conti li faremo alla fine. Chiaramente qualche cambiamento ci sarà a partire anche dallo staff. Il capo allenatore, Gajan, che aveva un contratto di una sola stagione, si sapeva che forse sarebbe rientrato in Francia per motivi familiari, lui aveva trovato la disponibilità solamente per un anno, ha fatto un ottimo lavoro e ci sarà sicuramente un nuovo capo allenatore, ma finché non ci saranno i contratti firmati o non sarà una cosa ufficiale, è inutile parlare. Pensare che noi dobbiamo sapere che dobbiamo far bene con questo team, per questi colori, per questa città, per questa franchigia, e soprattutto quando si fanno le cose bene in campo tutti hanno dei risultati oltre i meriti che sicuramente abbiamo su questa crescita. Io penso appunto che da adesso alla fine del campionato su quattro pariti in casa dobbiamo riavvicinare il pubblico che un po' per il freddo, un po' per i nostri risultati, si è allontanato, dobbiamo far vedere che in casa contro le grosse squadre facciamo bene, non abbiamo niente da perdere perché se giochiamo con Scarlett, Leicester, Master, sono squadre che stanno puntando ai play-off e dunque verranno qua per vincere e lì ci sarà più soddisfazione e si ribatteremo. Chiaramente io sono dietro la scrivania e poi non solamente lavorare perché i ragazzi possono avere tutto però penso che lo staff tecnico ha tutte le possibilità di motivarle soprattutto la professionalità di queste ragazze a partire da Giazzone e Roberto che per mia fortuna ho lavorato con loro anche su altre società sono giocatori seri e che hanno ambizioni alte. E per avvicinare il pubblico questo weekend hanno avuto due iniziative interessanti la prima domani sera al termine della gara che ricordiamo alle ore 19 all'ora 21 al My Hotel Villa Ducale vicinissimo allo stadio 25 Aprile ci sarà l'opportunità di vivere il terzo tempo per tutti i tifosi aperto insieme allo staff e agli atleti di entrambe le squadre per cui vi invitiamo domani dalle 21 al My Hotel Villa Ducale al terzo tempo di Zebra Scala sperando di festeggiare quello che ancora non hai mai fatto festeggiare visto che tu starai anche alla console sia dello stadio che del terzo tempo una buona bottiglia offerta perché senza dire cosa però può darci che sia il momento buono prelottate perché Leonardo Mussini darà spettacolo nel dopo partita mentre invece Roberto ieri eravamo a Reggio Emilia raccontaci questo evento di domenica patrocinato dalle Zebre sicuramente le Zebre giochiamo a Parma però siamo la squadra una franchigia del nord-ovest e tra le società da cui trarremo i giocatori del futuro quelle che dobbiamo fare in modo che amino oltre alla nazionale ma si attaccano anche alla nostra franchigia Reggio Emilia che è la società dove negli ultimi anni ho personalmente allenato è una società di eccellenza i nostri vicini il suo presidente nel nostro consiglio d'amministrazione e questo evento di questi 1200 bambini al torneo di domenica sarà supportato dai nostri giocatori che andranno sicuramente a far visita a firmare autografi ai ragazzini ma soprattutto dal nostro staff che sarà vicino anche in questo momento a questa società che ha un evento importante legato al miniarembi però volevo far capire che noi su tutte le società del territorio facciamo queste azioni ieri eravamo nella provincia di Reggio dove il sindaco e la presidentessa della provincia ci hanno presentato come una squadra legata a loro però nello stesso tempo siamo legati a Piacenza la quarta settimana siamo andati a Milano anche lì a vicino ecco appunto e chiaramente dobbiamo cercare di fidelizzare i giovani leve e diventano tifose delle zebre che sono portabandiere del Rebbi italiano veramente ve lo torno a dire si esalta con le vittorie ai tifosi purtroppo siamo ancora qua seduti a aspettare questa vittoria speriamo bene dai per cui si conclude qui la dodicesima puntata di Zebre in Meta la rivederci a tutti i tifosi di sportivi per la settimana prossima vi ricordo ancora l'appuntamento per domani sera venerdì 22 marzo 2013 all'ora 19 stadio 25 aprile di Parma le zebre ospitano i gallesi Scarlet e punti pesanti in paglio allo stadio 25 aprile e punti pesanti Grazie per la visione!